Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Fano e Arbolia, che è un'associazione che si occupa di creare dei boschi urbani in Italia. Questo progetto nasce da questa collaborazione ed è stato finanziato da tre partner, TECFEM, Romana Costruzioni e SICIM, che sono società del settore Elengas, TECFEM ha sede qui a Fano, che hanno finanziato questo progetto, che prevede in fondo la piantumazione di 5.000 piante nel parco urbano del Comune di Fano, Parco Polverari, piante che andranno ad arricchire quest'area di città che è già interessata da tanti lavori, come la realizzazione di una pista ciclabile nuova, la realizzazione di un'area giochi nuova, il recupero della vecchia casa del custode del parco. Un progetto importante quindi che si inserisce in un contesto che sta evolvendo. Dopo che qualche anno fa abbiamo acquisito quest'area finalmente al bene comune, ora la stiamo valorizzando in maniera tale che possa essere frequentata da tantissime persone e dove l'ambiente possa essere anche salvaguardato perché la collaborazione che stiamo mettendo in piedi anche con l'associazione ambientalista di Fano, che inizialmente avevano anche criticato il progetto, ma abbiamo trovato una soluzione, un impegno affinché si possa contemperare nello stesso progetto la necessità di vivere il parco, la necessità di difendere la natura e le specie animali. Questo parco ovviamente anche per esigenze di manutenzione viene gestito in maniera abbastanza regolare, ma contiene un 70% di alberi e un 30% di arbusti. Tra gli alberi il bagolaro, la roverella, l'acero campestre sono le essenze principali, poi ci sono anche gli arbusti ed è un impianto di bosco gestito per i prossimi due anni dalla società che l'ha realizzato, con un impianto di irrigazione automatico in maniera tale che ci possa essere l'attecchimento delle essenze e l'importo è stato considerevole tenuto conto non tanto del lavoro, ma di quanto essendo questa è un'area ex militare, si è dovuto procedere anche allo sminamento e alla vonifica degli ordini bellici che ovviamente in questo caso era necessario per poter piantare anche le piante.